Vestiti, piatti, bicchieri, tovaglioli, prodotti per l'igiene personale della casa, pannolini e omogenizzati per bambini, alimenti a lunga conservazione. Questo e tanto altro hanno donato ai cittadini ed esercenti della città di Sciacca in favore degli sfollati dei paesi del centro Italia, coinvolti lo scorso 24 agosto nei giorni a seguire da una serie di scosse di terremoto che hanno devastato diverse città. Anche il comune di Sciacca, così come altre realtà italiane, si è attivato per organizzare un centro di raccolta di beni di prima necessità, individuato nella sala Blasco del comune. Oggi, fino alle 13, ultima giornata di raccolta, ed è soddisfatto della risposta della cittadinanza il vice sindaco Silvio Caracappa. Ancora una volta la città di Sciacca non si smentisce. Avevamo lanciato un appello giorni fa, dopo che ci siamo sentiti con la protezione civile nazionale, avevamo mostrato il nostro interesse a partecipare a questa campagna umanitaria e quindi ci aspettavamo, perché conosciamo ormai la realtà dei saccensi, ci aspettavamo una grande partecipazione e così è stata. A tal proposito mi preme ringraziare intanto l'intera cittadinanza per tutti coloro i quali hanno collaborato e per il gesto che è stato compiuto. Un gesto significativo a fronte del bisogno di questi amici che purtroppo stanno vivendo dei momenti molto difficili. Ma mi preme anche ringraziare tutti coloro i quali si sono adoperati per mettere in modo questa macchina organizzativa, a partire dalla protezione civile del comune di Sciacca, quindi l'ingegnere Giovanni Bono, il funzionario Gianmarca Lì, la Croce Rossa di Sciacca che ha messo a disposizione gli operatori, volontari, ma tutte le altre associazioni di volontariato che hanno fatto squadra e quindi hanno mostrato grande interesse e partecipazione per questa iniziativa. Occorre anche ringraziare intanto ogni singolo cittadino, ma soprattutto anche i titolari di molte attività commerciali che addirittura con gli scatoloni pieni si sono fatti trovare i pronti proprio a dare questo segnale. Quindi io sono estremamente contento perché la città di Sciacca davvero ha dimostrato grande attenzione per questo momento di difficoltà e quindi sono certo che altre iniziative verranno per il proseguo perché noi nei momenti che contano ci facciamo sempre trovare pronti. Adesso il materiale raccolto come verrà distribuito? Sì, allora intanto dalla sede nazionale della protezione civile c'era stata data appunto la data di oggi per la chiusura di questa attività. Noi nella giornata di domani ci organizzeremo con gli scatoloni, quindi metteremo tutta la roba che è stata distribuita negli scatoloni e questi verranno trasportati presso le due sedi di raccolta in Sicilia, che sono una a Catania nell'altra a Palermo. Quindi attraverso dei tir riporteremo questa merce e poi da lì la merce verrà trasportata presso le zone del terremoto.